buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola unica al mondo oggi ti invito a scaricarti da qualsiasi parte del mondo in cui abiti in cui risiedi quest'audio mp3 dicesse un vero e proprio capolavoro direttamente da los angeles beverly hills dal titolo divorzio mai più divorzio mai più ed è rivolto soprattutto ai bambini ai componenti della famiglia che non accettano il divorzio dei genitori bambini adolescenti ragazzi insomma che non accettano il divorzio la separazione dei propri genitori e soffrono come dei cani per cui tu scaricando quest'audio mp3 dicesse seguendo le istruzioni alla lettera la prova di un nonno la prova di un pigro la prova di un idiota anche senza credere anche senza scendere montagne o salire ruscelli anche senza la tua partecipazione alla tua volontà tu puoi veramente aiutare tuo figlio tua figlia bambino adulto o adolescente che sia a non soffrire più perché tu o tuo marito vi siete divorziati separati allontanati è semplicissima le istruzioni sono molto ma molto facili e la prova di un nonno alla prova di un pigro alla prova di un idiota e ti meraviglierà letteralmente del potere della mente anche di tuo figlio anche se lui non sa nulla se segui le istruzioni ripeto ancora una volta molto facili alla prova di un nonno alla prova di un idiota alla prova di un pigro ok sai domande problemi non sai come scaricare eccetera puoi anche scrivere un'email all'associazione i prologi associati los angeles baby nils che ti risponderanno alla velocità della luce ma massimo entro tre giorni visita il mio sito internet www.iprologi associati puntocom la mia fanpage su facebook ipnosi autiprosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cesser dottor claudio saracino e fescher condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi gentilmente anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dcs del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico mio amica mia e liberati dalla sofferenza emotiva che non ti concerne che non ti riguarda perché un divorzio non è tra virgolette un qualcosa di assoluto ma di relativo ma il punto è convincere il tuo pilota automatico il pilota automatico tipo figlio il famoso subcosciente l'88 per cento della mente solo a te la scelta un bacio un abbraccio dal dottor claudio saracino e alla prossima